sempre in ambito alta velocità etr 1000 massa 500 tonnellate ha una composizione bloccata con 8 carrozze e una trazione distribuita significa che abbiamo 4 elementi motrici ognuno dei quali ha 4 assi motori per un totale di 16 assi motori la potenza sviluppata è di 9,8 megawatt quando alimentato in alternata un pochino meno quando è alimentato in continua la frenatura 5,6 megawatt velocità massima 350 chilometri orari doppia alimentazione 3 kilowatt dc 25 kilowatt ac sempre motori asincroni tre fasi alimentati da igbt con caratteristiche di 3,3 kilowatt e un kilo ampere immaginiamo ora di srotolare lo statore che è su questa circonferenza e svilupparlo su un piano otteniamo questo sistema di cave da 1 a 24 e andiamo a disegnare gli avvolgimenti l'avvolgimento di fase a occupa le cave 1 e 2 quindi indichiamo con il punto p il principio dell'avvolgimento e passiamo in questo verso nella cava 1 quindi questa è la corrente verso la corrente poi utilizziamo una tecnica di avvolgimento imbricato cosiddetta e occupiamo la cava 7 quindi 2 3 4 5 6 7 questa dobbiamo occuparla in questa maniera dopodiché andremo nella cava 2 e infine in cava 8 questo video è sponsorizzato da jlc pcb un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere pcb di ottima qualità in pochi giorni potrete ordinare al corso di soli due dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni ciao a tutti e benvenuti in laboratorio come sempre prima di iniziare un saluto a 5 nuovi sostenitori del programma patreon ciao e grazie a marco cass andrea dp maurizio c cosma rom e diego ceo grazie per il vostro supporto apprezzatissimo questa sera sul tavolo ho un po di confusione ho una serie di fogli perché ci occuperemo della terza puntata sulla trazione elettrica in puntata 1 ci siamo occupati della trazione in senso generale quindi fisica del movimento l'infrastruttura ferroviaria le sottostazioni elettriche in parte 2 abbiamo guardato i chopper e quindi gli azionamenti con motori a corrente continua questa sera guarderemo gli azionamenti con motori in corrente alternata quindi avrò una prima parte di panoramica dove farò una tabella comparativa delle caratteristiche dei rotabili più moderni quindi i vari mezzi con sistemi asincroni e sincroni e ci focalizzeremo sul motore a sincrono quindi riprescheremo i concetti del motore a induzione le sue caratteristiche e guarderemo gli schemi degli invertitori in particolare realizzati con tiristori quali gto ad esempio o anche i gbt ovviamente io utilizzerò degli schemi che non sono quelli dei propri dei rotabili perché sono in forma informazioni ovviamente riservate ma avremo degli schemi di principio comunque applicabili ringrazio in particolare guido g per avere scambiato informazioni e considerazioni su questo tipo di azionamenti e quindi buona visione per avere una panoramica generale sui sistemi di trazione moderna ho costruito questa tabella che vorrei popolare in colonna 1 mettiamo il tipo di rotabile che può essere una locomotiva un elettrotreno un treno ad alta velocità in colonna 2 la massa espressa in tonnellate il numero di assi motori la potenza continuativa alle ruote espressa in megawatt la potenza continuativa alle ruote di frenatura elettrica sempre in megawatt la velocità in chilometri all'ora l'alimentazione quindi espressa con il kilovolt tensioni continua o alternata il tipo di motore utilizzato il tipo di azionamento quindi l'elettronica impiegata con i relativi valori di tensione corrente in kilovolt e kilo ampere ed eventuali note la prima una locomotiva tradizionale a gto è la e 402b massa 88 tonnellate quattro assi motori potenza continuativa alle ruote 5,6 megawatt in frenatura 3 35 velocità 200 chilometri orari alimentata alla 3 kilovolt dc il motore è una sincrono trifase azionato da dei gto con caratteristiche di 4,5 kilovolt e 2,4 kilo ampere ho inserito la famosissima e 464 con massa di 72 tonnellate potenze un po' inferiori 3 megawatt velocità 160 chilometri orari sempre 3 kilovolt dc di trazione con motori a sincroni trifase a gto con caratteristiche similari poi abbiamo una caso di ristrutturazione quindi azionamenti tradizionali che vengono modificati per aumentarne l'affidabilità il caso della e 402 a massa 87 tonnellate sempre quattro assi motori 5,2 3 35 per le potenze velocità 200 chilometri orari è sempre un azionamento a gto che pilota motori a sincroni trifase con valori similari per quanto riguarda l'elettronica ho inserito i nuovi treni per il trasporto regionale pop e rock entrambi hanno degli azionamenti che fanno uso di igbt per pilotare dei motori a sincroni trifase nel caso di pop abbiamo una massa totale di 180 tonnellate con una composizione bloccata formata da due motrici e due rimorchiate ogni motrice ha due assi motori nel caso di rock 330 tonnellate con posizione due motrici e tre rimorchiate e ogni motrice però ha quattro assi motori le potenze sono per il pop 2 e 2,4 e per il rock 3,4 e 3,8 entrambi garantiscono la velocità di 160 chilometri orari entriamo nel segmento alta velocità etr 500 massa totale 600 tonnellate numero di assi motori 4 una composizione formata da due motrici e 11 rimorchiate potenza 8,8 megawatt di frenatura 7,5 velocità 300 chilometri orari doppia alimentazione quindi o 3 kilowatt in continua o 25 kilowatt alternati 50 hertz motori sempre a sincroni trifase alimentati da gto con caratteristiche similari a quanto abbiamo visto prima veniamo a un treno storico il tgv utilizzato in alta velocità in francia a partire dagli anni 80 ne esistono molte versioni io qua come riferimento ho messo qualche numero della versione atlantic abbiamo un peso di 65 tonnellate per le unità motrici 44 per le unità rimorchiate numero di assi 4 composizione a seconda del tipo di tgv cambia potenza 6,45 megawatt velocità 300 chilometri orari tensione di alimentazione 1,5 in continua in francia e 25 kilowatt a 50 hertz sempre la cosa molto interessante è che questo è un treno che utilizza i motori sincroni trifase alimentati con gto nelle prime versioni anni 80 sostituiti poi con gli igbt questo tipo di motori sincroni ha il rotore che contiene degli avvolgimenti i quali sono alimentati a loro volta da un chopper sempre in ambito alta velocità etr 1000 massa 500 tonnellate ha una composizione bloccata con otto carrozze e una trazione distribuita significa che abbiamo quattro elementi motrici ognuno dei quali a quattro assi motori per un totale di 16 assi motori la potenza sviluppata è di 9,8 megawatt quando alimentato in alternata un pochino meno quando è alimentato in continua la frenatura 5,6 megawatt velocità massima 350 chilometri orari doppia alimentazione 3 kilowatt dc 25 kilowatt ac sempre motori asincroni tre fase alimentati da igbt con caratteristiche di 3,3 kilowatt e un kilo ampere e infine agv che in italia è italo come l'etr 1000 è un elettrotreno quindi ha una trazione distribuita con una massa totale di 372 tonnellate distribuita su 11 casse abbiamo cinque carrelli motorizzati quindi con un numero totale di 10 motori la cosa molto particolare è che parliamo di motori sincroni trifasi a magneti questa è una grande novità molto particolare sviluppa una potenza di 9,12 megawatt se alimentato in alternata velocità massima 360 chilometri orari con la doppia alimentazione per la versione italiana 3 kilowatt dc 25 kilowatt ac l'azionamento è a igbt nella tabella che abbiamo appena visto tutti i motori sono di tipo asincrono o sincrono e questo perché rispetto ai motori in corrente continua col collettore a spazzole hanno numerosi vantaggi innanzitutto presentano un minore ingombro e massa a parità di potenza proprio perché non avendo elementi striscianti riescono a girare a velocità più elevate inoltre sono reversibili quindi gli azionamenti che pilotano questo tipo di motori garantiscono il funzionamento da motore e da generatore quindi viene gestita anche la frenatura hanno un ottimo comportamento nei confronti dell'aderenza permettono l'inversione del senso di marcia semplicemente con dei cambi a livello elettronico e non più con dei commutatori come avveniva nei motori in corrente continua hanno ottime caratteristiche di elasticità ossia riescono a far funzionare il rotabile in diverse condizioni di avviamento di frenatura e di marcia perché il parametro chiave di controllo è la frequenza quindi potendo agire sulla frequenza si riesce a ottenere sempre la situazione ottimale per il regime di marcia per capire come funziona un azionamento è necessario fare un piccolo passo indietro adesso e richiamare la teoria del motore a sincrono o a induzione nel video 538 avevo comunque fatto un tutorial che descriveva i vari di motore il motore a sincrono è detto anche a induzione proprio perché sfrutta questo principio per convertire energia elettrica in energia meccanica semplifichiamo rappresentando il motore con due parti una fissa chiamata statore esterna e una mobile chiamata rotore sia le macchine a sincrone che sincrone sfruttano il principio del campo magnetico rotante identificato da galileo ferraris per produrre moto partendo da un'energia elettrica si sfrutta il principio di lawrence secondo il quale un conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico subisce una forza appunto la forza di lawrence con una semplice bobina produciamo un campo magnetico con due poli possiamo immaginare campi magnetici a più poli come in questo caso dove abbiamo un magnete con una sequenza nord sud nord sud se questi due magneti ruotano la stessa velocità angolare il campo magnetico rotante risultante in questo caso avrà una velocità metà infatti in questo caso il polo nord deve compiere alla stessa velocità di rotazione 360 gradi in questo caso invece per avere un nord in questa posizione sono sufficienti solo 180 gradi quindi la velocità del campo magnetico rotante è data dalla velocità angolare diviso le coppie polari in un motore reale per ricreare questa situazione di campo magnetico rotante ricorriamo al principio di galileo ferraris e quindi organizziamo degli avvolgimenti sullo statore fatti in questa maniera questa è una rappresentazione idealizzata che dopo vedremo nella pratica sarà distribuita concettualmente abbiamo tre avvolgimenti che sono disposti con 120 gradi meccanici e quindi geometri geometrici fra di loro e anche 120 gradi elettrici questo significa che ogni avvolgimento è alimentato da una sinusoide con dei ritardi di 120 gradi da una all'altra quindi ad esempio se prendiamo la fase a questa qua rossa avremo questa espressione che è appunto i a im coseno di omega t quindi abbiamo questa sinusoide se prendiamo la fase b questa qui sarà sfasata di 120 gradi infatti compare il due terzi pi greco se prendiamo la fase c sarà sfasata di quattro terzi pi greco ogni corrente ha la stessa ampiezza questo valore im e quindi il sistema trifase è equilibrato cioè la somma vettoriale delle correnti vale sempre zero questo significa che in ogni istante di tempo il valore assunto da una fase è uguale opposto alla somma delle altre due in modo che la loro somma algebrica valga sempre zero con questo meccanismo quindi abbiamo ricreato la stessa identica situazione del magnete rotante e quindi abbiamo dei poli magnetici che ruotano a una certa velocità ogni fase produce una forza magnetomotrice e queste tre si combinano si può dimostrare che la forza magnetomotrice totale in ogni istante del tempo è pari a una volta e mezzo la forza magnetomotrice della singola fase che sappiamo essere proporzionale al valore della corrente che la genera per il numero di spire facciamo un esempio pratico di un motore asincrono e quindi disegniamo uno statore con delle cave che sono delle scalanature dove vengono infilati i conduttori per creare gli avvolgimenti che abbiamo visto prima in questo caso abbiamo m uguale a 3 che sono le fasi quindi un sistema a tre fase un sistema di quattro poli magnetici e lo vedremo e un sistema con q uguale a 2 cioè due cave per ogni polo magnetico il numero totale di cave q complessivo è dato dal prodotto di questi tre numeri e quindi avremo 24 cave quindi in un motore reale le tre bobine ideali che abbiamo visto prima sono in realtà distribuite lungo la circonferenza dello statore con delle regole geometriche date appunto dal numero di poli e numero di cave cominciamo a disegnare la prima fase in blu qua ho indicato gli angoli geometrici meccanici partendo da questa retta e andando a crescere cominciamo a disporre la prima fase occupando le prime due cave quindi la fase a la le indichiamo con un punto rosso che significa che questi conduttori equivalgono appunto alla fase a con il puntino significa che vengono verso di noi questi conduttori dovranno occupare le cave 7 e 8 che però avranno verso opposto e quindi le indichiamo con un più come se vedessimo una freccia che entra nel foglio l'avvolgimento a deve trovarsi in questa posizione perché ci devono essere 180 gradi elettrici fra questa cava e questa cava ricordiamo infatti che il numero di poli è pari a 4 quindi come nel caso del magnete i 360 gradi elettrici si hanno da qui a qui quindi i 90 gradi meccanici corrispondono a 180 gradi elettrici ecco perché l'avvolgimento esce da questa parte e entra da quest'altra a 180 gradi elettrici dopo altri 180 gradi elettrici quindi in posizione 13 e 14 l'avvolgimento a deve nuovamente ruotarsi di fase quindi abbiamo il puntino e dopo altri 180 gradi elettrici deve nuovamente ruotarsi quindi avremo dei più la seconda fase b deve essere ritardata di 120 gradi elettrici e quindi se questa è l'inizio della fase a la fase b dovrà occupare le cave 5 e 6 che sono proprio 120 gradi elettrici cioè due volte gli angoli meccanici e quindi indicheremo un puntino nero per la fase b con l'avvolgimento che esce dal foglio poi proseguiamo occupando le cave 11 e 12 questa volta con il segno più e ancora sempre di 120 gradi le 17 18 con il segno puntino quindi uscente e infine le 23 24 sempre con il più infine l'ultima fase deve essere 120 gradi ritardata rispetto a b quindi occuperà le cave 9 e 10 con puntino blu questa volta visto che è la fase c e così via avremo il più qui il puntino sulla 21 e 22 e infine il più qua sulla 3 e la 4 immaginiamo ora di srotolare lo statore che è su questa circonferenza e svilupparlo su un piano otteniamo questo sistema di cave da 1 a 24 e andiamo a disegnare gli avvolgimenti l'avvolgimento di fase a occupa le cave 1 e 2 quindi indichiamo con il punto p il principio dell'avvolgimento e passiamo in questo verso nella cava 1 quindi questa è la corrente verso della corrente poi utilizziamo una tecnica di avvolgimento imbricato cosiddetta e occupiamo la cava 7 quindi 2 3 4 5 6 7 questa dobbiamo occuparla in questa maniera dopo di che andremo nella cava 2 e infine in cava 8 proseguiamo sappiamo che dobbiamo andare in cava 13 quindi entriamo in questo verso proseguiamo con il nostro avvolgimento poi in cava 19 quindi questa qui scendiamo di qua i versi delle correnti sono come vedete sempre coerenti con gli angoli elettrici dobbiamo occupare la cava 14 qui e infine l'ultima la cava 20 questa qui e abbiamo il fine avvolgimento quindi vedete che l'avvolgimento occupa le cave secondo la sequenza che abbiamo indicato prima ho rappresentato all'interno delle cave anche la fase b e c con i versi delle correnti per ogni avvolgimento immaginiamo la situazione al tempo t uguale 0 quindi all'inizio sull'asse delle ascisse riporto lo sviluppo longitudinale dello statore quindi immaginiamo di percorrere la circonferenza di statore lungo questa linea e in asse delle ordinate la forza magnetomotrice totale quindi la combinazione delle tre forze magnetomotrici se rappresentiamo punto per punto la somma vettoriale vediamo che esiste questo andamento e quindi identifichiamo i quattro poli del motore il nord sud nord sud i tre avvolgimenti realizzati nelle cave in maniera distribuita creano dal punto di vista magnetico un sistema a quattro poli fatto in questa maniera quando il tempo scorre ovviamente il campo magnetico è agganciato alla pulsazione secondo la legge che abbiamo visto prima siccome qua abbiamo quattro poli abbiamo che il campo magnetico rotante gira una pulsazione in metà rispetto alla pulsazione originale delle correnti per comprendere il funzionamento del motore ricorriamo allo schema elettrico di una fase saranno tutti e tre uguali siccome il sistema è bilanciato ho indicato in rosso le grandezze fondamentali e la tensione di alimentazione della fase i1 la corrente di statore e1 la forza contro elettromotrice indotta dal flusso magnetico i2 la corrente nel rotore riconosciamo r1 che ci rappresenta le perdite negli avvolgimenti di statore x1 il flusso disperso g0 le perdite nel ferro b0 la corrente magnetizzante sul secondario flusso disperso al rotore r2 perdite ohmiche sempre di rotore re è una resistenza variabile che varia a seconda della velocità del rotore a rotore bloccato quindi fermo re è un cortocircuito quindi abbiamo solo r2 viceversa quando è in sincronismo che sappiamo che per un motore a sincrono questo non si raggiunge mai re sarebbe un circuito aperto e comunque la serie di questi due parametri è equivalente a r2 diviso s dove s è lo scorrimento quando il rotore è fermo il campo magnetico rotante di statore induce delle correnti nel rotore che ha degli avvolgimenti in cortocircuito la classica gabbia di scoiattolo dentro questi conduttori quindi si creano delle correnti indotte che a loro volta sono immersi in un campo magnetico quindi abbiamo una situazione di conduttori immersi in campo magnetico ecco che si sviluppa la forza di Lorenz che mette in moto il rotore visto che è libero di ruotare se pensiamo alla legge di Lenz le forze contro elettromotrici che si sviluppano nel rotore però saranno tali da opporsi alla causa che le ha generate e quindi il rotore prenderà velocità ma non raggiungerà mai la velocità di sincronismo ecco che quindi si introduce il concetto di scorrimento che rappresenta proprio la differenza fra la velocità di sincronismo e quindi la pulsazione del campo rotante e la velocità di rotazione del rotore lo scorrimento S è definito come il rapporto tra la differenza tra la velocità di sincronismo e la velocità di rotore e la velocità di sincronismo per S uguale a 0 abbiamo che la velocità di rotore sarebbe uguale alla velocità di sincronismo ma questo non è possibile per S uguale a 1 invece N uguale a 0 cioè il rotore è fermo le forze elettromotrici trifasi indotte nel rotore hanno una frequenza F2 uguale a S per F che è la frequenza del campo magnetico rotante il valore efficace delle Fm E2 vale K2 che è un fattore di K per i motori N2 numero di conduttori delle fasi per F2 la frequenza per il flusso quando il rotore è fermo la forza elettromotrice ha frequenza F2 uguale a F infatti lo scorrimento sarebbe uguale a 1 quindi il valore RMS con rotore fermo ha la stessa espressione ma con frequenza F quella del campo magnetico rotante quindi possiamo dire che la forza elettromotrice con rotore in movimento è uguale a S per la forza elettromotrice a rotore fermo da qui si vede bene che il rotore non potrà mai girare alla velocità di sincronismo infatti in questo caso S dovrebbe valere 0 e quindi forza elettromotrice nulla possiamo finalmente calcolare la corrente I2 che è data dal rapporto di E2 la forza elettromotrice diviso l'impedenza totale di questo ramo ho riportato qua l'espressione algebrica quindi abbiamo E2 che è uguale a E0 per S per quanto visto prima diviso l'impedenza che si vede siccome sono due grandezze vettoriali dobbiamo dividere per il modulo che otteniamo come la radice quadrata di R2 al quadrato più S2 per X0 al quadrato questa è l'espressione della corrente I2 siamo in grado di calcolare la potenza attiva totale Pt come tre volte visto che tre sono le fasi per la resistenza totale che è questa R2 diviso S essendo una potenza attiva questa X0 non ci interessa per il quadrato della corrente I2 sostituendo I2 che abbiamo trovato prima otteniamo questa espressione dove possiamo isolare due termini un termine PR2 che è la potenza spesa sulle perdite rotoriche di rame quindi le perdite dovute alla resistenza degli avvolgimenti che definiamo come S per Pt quindi la potenza totale per lo scorrimento più un'altra componente che è la potenza meccanica che è quella che ci interessa che definiamo come 1-S per Pt quindi vediamo che la potenza totale attiva è un bilanciamento fra quanto viene speso su perdite in rame rispetto alla potenza meccanica trasferita al carico il tutto quindi è tenuto in equilibrio da S lo scorrimento ossia la velocità di rotore sarà tale da rendere vero questo bilancio energetico tot potenza trasferita all'albero motore e tot potenza dissipata sull'avvolgimento di rotore nel caso di gabbia di scoiattolo ricordiamo che l'avvolgimento è posto in cortocircuito quindi sono delle sbarre attraversate da corrente chiusi da collari che le pongono appunto in cortocircuito determiniamo ora l'espressione della coppia meccanica sappiamo che la potenza meccanica è uguale alla coppia per la velocità angolare da qui possiamo dire che la coppia la otteniamo come rapporto quindi della potenza meccanica diviso la velocità angolare per quanto visto prima la potenza meccanica la possiamo scrivere come 1-S per Pt potenza attiva trasmessa e la velocità angolare del rotore sappiamo che è uguale a 1-S per ω0 velocità di sincronismo quindi in ultima analisi la coppia è uguale alla potenza attiva trasmessa diviso la velocità angolare di sincronismo quindi possiamo dire in prima battuta che la coppia è direttamente proporzionale alla potenza attiva trasmessa sostituendo l'espressione che abbiamo trovato prima per Pt la coppia è equivalente a questa espressione dove compare la forza elettromotrice E0 al quadrato sostituendo anche per questo valore l'espressione che abbiamo visto prima si giunge a questa formula dove vediamo che la coppia dipende dalla frequenza di sincronismo dal quadrato del flusso dal fattore K e da questa espressione che contiene lo scorrimento e le componenti di rotore portiamo su grafico la coppia rispetto alla velocità di rotazione del rotore N e aggiungiamo due assi l'asse dello scorrimento S orientato in questa maniera e l'asse della frequenza della forza elettromotrice F2 a rotore fermo N uguale a 0 sappiamo che lo scorrimento vale 1 e la frequenza della forza elettromotrice vale proprio F frequenza di sincronismo tipicamente il rotore lo si fa lavorare vicino alla coppia massima questo valore detto di rovesciamento che si ottiene per una particolare velocità di rotazione N e un particolare valore di S quando lo scorrimento equivale al rapporto tra R2 e X0 cioè perdite resistive di rotore e flusso disperso di rotore quando abbiamo questo particolare rapporto otteniamo la coppia massima siccome di solito si lavora con scorrimenti molto piccoli dell'ordine di qualche punto percentuale a una certa frequenza la pendenza di questa curva della coppia è molto elevata significa che si passa molto rapidamente da coppia nulla a coppia massima dunque il nostro convertitore di potenza sia esso fatto con tiristori, GTO e GBT per governare il motore a frequenza variabile può lavorare in queste due modalità modalità trazione supponendo che il motore giri a una velocità N deve fare in modo che la frequenza sia superiore al prodotto di P sono i poli per N diviso 2 velocità di rotazione se riesce a imporre questa condizione sappiamo che F2 è maggiore di 0 lo scorrimento è maggiore di 0 e la velocità di rotazione del motore è inferiore a quella di sincronismo in questo caso quindi siamo in trazione ossia assorbiamo della potenza attiva dalla rete e la trasferiamo al motore viceversa se la frequenza è minore del prodotto P per N mezzi tutte queste grandezze si invertono di segno e siamo in frenatura quindi abbiamo che il nostro motore diventa un generatore cioè trasferisce potenza attiva tramite il convertitore alla rete la potenza attiva la possiamo esprimere come 3E tensione di alimentazione di fase per I1 per cos phi oppure nella forma radice di 3U dove U è la tensione concatenata sempre I1 per cos phi sia nel caso di trazione che frenatura dobbiamo anche gestire la potenza reattiva che è equivalente a quella attiva con la differenza che invece del coseno compare il seno quindi il convertitore deve essere in grado di gestire anche questa potenza reattiva possiamo far lavorare il nostro convertitore di potenza a frequenza variabile o a tensione variabile nel caso di tensione variabile possiamo alimentare il nostro motore con una tensione U' che è uguale alla tensione di alimentazione moltiplicata per un coefficiente KU tenendo la frequenza costante sappiamo che in questo caso il flusso che ne deriva è proporzionale al flusso originario con l'alimentazione U per lo stesso coefficiente KU invece la coppia massima Cm' sarà proporzionale alla coppia massima che avevamo con l'alimentazione U moltiplicata per il quadrato del fattore KU che abbiamo selezionato nel caso di frequenza abbiamo il caso duale ossia con tensione costante alimentiamo con una frequenza F' che è uguale alla frequenza originaria di alimentazione per Kf sappiamo che il flusso questa volta viene diviso per Kf e quindi la coppia massima che ne deriva nuova sarà divisa per il quadrato del coefficiente Kf uno dei vantaggi principali degli azionamenti trifase rispetto a quelli che utilizzano motori a collettore è la capacità di realizzare una caratteristica meccanica praticamente ideale l'elasticità di funzionamento di un mezzo di trazione si può esprimere con questo rapporto beta fra la velocità di marcia massima e la velocità V1 che è quella che è relativa alla potenza nominale P1 è auspicabile che la potenza nominale rimanga costante durante tutto l'intervallo di velocità tra V1 e Vm e che la forza abbia un andamento costante o leggermente decrescente tra 0 e la velocità V1 il funzionamento a flusso costante ci permette di avere una coppia che viene mantenuta costante mano a mano che aumenta la velocità questo lo si ottiene facendo in modo di variare l'alimentazione al motore proporzionalmente alla frequenza facendo in modo che il loro rapporto sia costante se si riesce a ottenere questo avremo che la coppia massima è proporzionale al quadrato del flusso e quindi costante proprio perché abbiamo mantenuto questo rapporto fisso significa che al variare della velocità le nostre curve trasleranno sempre con lo stesso valore di scorrimento e andremo a intercettare un valore di coppia sempre nello stesso punto la condizione a flusso costante la otteniamo fino a una velocità N1 cioè quella corrispondente alla potenza nominale P1 quando la tensione ha raggiunto il suo valore nominale oltre questo valore di velocità quindi da N1 a Nm sappiamo che invece il flusso diminuisce e quindi avremo un andamento a flusso variabile in pratica il flusso ha una riduzione pari al fattore beta l'elasticità e la coppia di conseguenza visto che dipende dal quadrato avrà una riduzione pari a un fattore beta 2 per ovviare a questo problema di calo della coppia si può optare o per un aumento della tensione U per un fattore radice di beta ma questo non è tanto conveniente perché si avrebbe un sovradimensionamento dell'invertitore di potenza oppure si può ragionare sul fattore gamma il fattore gamma lega la coppia alla coppia massima e si potrebbe fare in modo che questo gamma sia variabile a seconda della velocità utilizzata si può adottare un meccanismo per cui all'inizio fra 0 e N1 viene introdotta dell'induttanza serie sul motore questo fa sì di migliorare la forma d'onda di corrente è aumentare la coppia e a velocità elevate da N1 a Nm questi induttori vengono esclusi e questo fa in modo di poter far lavorare il motore a piena coppia garantendo delle coppie di spunto elevate guardiamo ora la tecnologia dei convertitori trifase esistono sistemi a tensione impressa e a corrente impressa noi guarderemo in particolare quelli a tensione impressa perché oramai quelli a corrente impressa non sono più convenienti da realizzare con l'avvento dei tiristori quali GTO questo è diventato il sistema più conveniente gli schemi prevedono di solito un convertitore di ingresso e uno di uscita i convertitori di uscita sono degli invertitori quindi dalla tensione continua creano la tensione trifase per l'azionamento che può essere un motore a sincrono o sincrono il convertitore di ingresso a seconda dello stadio che abbiamo a monte può essere nel caso di alimentazione in continua filtro LC un convertitore come un frazionatore ad esempio visto nel precedente episodio oppure nel caso di tensione alternata un raddrizzatore a commutazione naturale o anche a commutazione forzata con tiristori in ogni caso in mezzo a questi due convertitori abbiamo sempre un circuito intermedio di natura capacitiva per la stabilizzazione della tensione continua nell'invertitore a due livelli abbiamo un ponte trifase realizzato con tre colonne ognuno di questi può essere un tiristore di tipo diverso ad esempio dei GTO sono previsti dei diodi in antiparallelo per far sì che la corrente possa fluire in entrambi i versi quindi dalla sorgente verso il motore e dal motore verso la sorgente il motore viene collegato con i suoi tre morsetti RST alle tre gambe del ponte trifase e quindi ognuno di questi punti può essere collegato o al terminale positivo o al terminale negativo da qui il nome due livelli possiamo vedere le tre forme d'onda tensione fra RS, ST o TR che presentano appunto un'onda quadra e queste sono sfasate in maniera opportuna in modo che l'impulso di comando onda quadra sia pari a T terzi cioè al periodo diviso tre e si fa in modo che con massima precisione avvenga appunto la commutazione dell'inverter il comando può essere anche di tipo PWM e quindi a impulsi molto stretti in modo che venga ricostruita una terna di sinusoidi infatti andando ad alta frequenza con la modulazione della durata dell'impulso si può proprio ricostruire la forma d'onda sinusoidale con sfasamenti di 120 gradi elettrici tra RS e T qui è rappresentato l'invertitore a tre livelli come dice il nome oltre al positivo e il negativo è stato aggiunto anche lo zero qui ad esempio è rappresentata la forma d'onda fra le fasi R ed S questo schema fa utilizzo di 30 componenti fra tiristori e diodi a commutazione naturale appunto per permettere la circolazione di correnti nei due versi si ottiene uno zero virtuale tramite i due condensatori al quale sono attaccate queste maglie dei diodi e poi ci sono i gruppi dei tiristori con le tre colonne attaccate alle fasi RS e T anche in questo caso il pilotaggio può essere di tipo onda quadra quindi con la ricostruzione in maniera abbastanza grossolana della forma d'onda sinusoidale spasata di 120 gradi oppure a impulsi con le creazioni di sinusoidi molto puntuali e precise sfruttando le caratteristiche di commutazione a elevata velocità ad esempio dei GTO che possono arrivare tranquillamente nella zona dei Kilohertz io vi ringrazio per aver visto il video come sempre se vi è piaciuto o vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima everybody put your hands in the air ciao a tutti 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 ciao a tutti